Perché hai scelto l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata? Mi è stato detto che comunque sia un'università molto preparata, i suoi docenti sono molto, diciamo così, capaci. Allora, ho scelto Roma Tor Vergata perché tra le università statali viene classificata tra le migliori per la facoltà di Economia e quindi secondo me ti permette di avere uno sbocco lavorativo subito dopo aver conseguito sia il diploma di laurea triennale che quello specialistico. Ho scelto Tor Vergata perché è una, a livello per Economia, è una delle università migliori in Italia e offre molti servizi agli studenti. Allora, io ho scelto questa università principalmente per, diciamo, la posizione. Mi piace perché è una zona di Roma piuttosto tranquilla, a me non piace il caos, non piace la folla, non piace prendere la metro e questa zona di Roma mi piace perché è molto tranquilla ed è facile da raggiungere. Allora, io ho scelto l'Università di Tor Vergata perché è un'università molto valida e soprattutto per la facoltà di Economia che è una nota appunto per la qualità di insegnamento e la didattica estremamente valida. L'Università di Tor Vergata penso sia una delle migliori a livello italiano se si vuole, diciamo, guardare in ottica di centro Italia. Ovviamente l'orientamento per chi può venire negli anni futuri posso dire che abbiamo degli ottimi insegnamenti soprattutto dal punto di vista dei professori. Allora, ho scelto l'Università di Tor Vergata perché innanzitutto rappresenta un punto di incontro fondamentale tra il liceo e il mondo del lavoro successivamente perché negli indici di tutte le statistiche più importanti ha un elevatissimo tasso di occupazione successiva all'università stessa. Quasi più dell'85% dei laureati trova lavoro successivamente alla laurea sia triennale che specialistica. Un aggettivo per definire l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Efficente? Moderno. Perché è un'università molto nuova. Affidabile. La migliore. Perché è molto tranquilla. La struttura è bella, mi piace, è nuova, è sofisticata. È tutta la struttura. Grazie a tutti.